Video inedito sulla storia di Rami, il ragazzo morto in seguito all'inseguimento stradale avvenuto da parte dei carabinieri per il ragazzo, e per i ragazzi in questo caso perché sono due, sul motorino, sul T-Max, che non si sono fermati all'alt. Oggi abbiamo qui un video inedito, fatto vedere durante una trasmissione, che raffigura l'inseguimento. Durante questa trasmissione, per farvi un breve riassunto di quello che è successo su questo servizio, si vede appunto l'inseguimento, si vedono tutte le serie di manovre pericolose che ha fatto la moto, ma non si vede il momento dell'impatto, se c'è stato il momento dell'impatto. Abbiamo soltanto uno spezzone di inseguimento. Però oggi il tema principale, oltre a questo, sarà andare a sentire cosa ne pensano Belpietro e altri ospiti, tra cui anche un ragazzo a favore di Rami, su quello che è successo. Prima di iniziare però io mi presento, sono Massimo Salvati e vi do il benvenuto su Speedy News. Inoltre, se volete supportare il canale, io vi ricordo che è possibile abbonarsi. Detto ciò, non perdiamo altro tempo e iniziamo subito con il video. Beh, mi sembra che la posizione dei carabinieri si chiarisca. E vi spiego perché. Per un motivo molto semplice. Vedendo questo video, per qualsiasi persona normale, rispettosa della legge, non possono essere accusati di omicidio colposo chi guidava quella moto e un carabiniere che lo inseguiva. Non possono stare sullo stesso piano. Perché il carabiniere stava facendo servizio pubblico, tutelando le persone e garantendo la sicurezza in una città come Milano. E l'altro stava fuggendo. Cioè, chi metteva a rischio la vita delle persone? Chi metteva a rischio la vita del ragazzo che stava seduto dietro e metteva a rischio la vita di altri che potevano attraversare la strada in quel momento? Cioè, chi conduceva la moto sapeva perfettamente di rischiare la vita sua e della persona che aveva dietro e anche di quelli che potevano eventualmente essere investiti e quindi provocando un incidente. E poteva rischiare anche la vita dei carabinieri che lo inseguivano. Quindi, i carabinieri non possono essere messi sullo stesso banco degli imputati dove vengono messi invece quelli che scappano. Perché fanno un servizio. Il loro servizio è tutelare le persone e tutelare il rispetto della legge. Questi sono i carabinieri. Non possono stare sullo stesso piano. Alessandra Borgia. Sono insieme a MomKong. Allora, MomKong, hai visto queste immagini? Perché si scappa dalla polizia, in questo caso dai carabinieri, e invece bisognava fermarsi? Purtroppo la paura delle volte porta a fare degli errori gravi. Che sia stato una rapina o spaccio, qualsiasi cosa non giustifica la morte di una persona. Perché dietro c'è una famiglia che prova un dolore che è per sempre irriparabile. Magari il ragazzo ha bevuto un bicchiere di troppo, cosa ha fatto? Per paura è scappato, non si è fermato al posto di blocco. Sì, ma se bevi non ti metti alla guida. Quindi comunque nel torto c'è. Ma questo non vuol dire che una persona deve perdere la vita. Il rischio, il rischio però è talcio. Ma chi è che le ha fatto perdere la vita? Chi è che gli ha fatto perdere la vita? Bisogna vedere. Il ragazzo ovviamente che guidava bisogna fare di tutto. Sia il ragazzo che guidava bisogna anche indagare i carabinieri e vedere veramente ciò che è successo. Perché io sono dalla parte di chi ha ragione. Se il carabiniero ha sbagliato deve pagare. Chi guidava ovviamente già nello sbaglio. Però bisogna anche capire cos'è che l'ha portato a sbagliare. E sbaglia quindi anche chi non si ferma? Quindi c'è la scusante. Sbaglia ovviamente chi non si ferma. La scusante è per chi scappa. Però può capitare a tutti. Perché si sottrae alla legge c'è ovviamente la scusante. Invece per il carabiniere che è tenuto a far rispettare la legge, la scusante non c'è. Ma vergognatevi. No, non c'è, non è vergogna. Ma non si può sentire. No, no. Non si può sentire una cosa del genere. È vergognoso che si dica a persone che li fanno rispettare la legge. La colpa è che li hanno inseguiti. Allora adesso inseguire qualcuno ha una colpa. Ok, saltare un semplice posto di blocco ovviamente non dà da pensare male. Ha ragione. Io veramente la logica dei giovani d'oggi, mi ci metto anche in mezzo io, anche se non ragiono così, non la capisco. Ma come si fa a dire ha saltato un semplice posto di blocco? Ma le parole hanno un peso quando si usano. Cioè ha saltato un semplice posto di blocco. Dal momento in cui tu salti un posto di blocco e non ti sottoponi ai controlli per legge, quello che succede è che ovviamente il poliziotto pensa male. Pensa chissà che cosa. Pensa che hai fatto qualcosa di sbagliato. Infatti, infatti ha presso, cioè a mille euro, più una cadenina d'oro strappata. Quindi questo testimonia il fatto che comunque erano dei poco di buono quelli che stavano là sopra. Ovviamente, però, dai, su. Siamo onesti. Siamo onesti. Cioè, obiettivamente non sta né in cielo né in terra questa cosa, dai. Non hanno saltato un semplice posto di blocco. Hanno infranto la legge, che è diverso. E quindi è giusto che vengano inseguiti. Perché chissà che cosa potevano possedere dal punto di vista dei carabinieri. Dal momento in cui non ti fermi, tu, a casa mia, almeno una persona normale ragionerebbe così, direbbe che se tu non ti fermi a un posto di blocco, allora automaticamente stai nascondendo qualcosa. Di conseguenza, ti devo inseguire. Ma vi rendete conto delle assurdità che venite a raccontarci? Ma non vi si può ascoltare? Siete insopportabili in questa difesa di qualcuno che fuggiva dalle forze dell'ordine. Dalla legge fuggiva. Anche a me è successo. Dalle responsabilità di chi guidava. Vi sentiamo. Di chi non seguiva. Dai. Prego, prego, prego. E da ragazzo ho saltato un posto di blocco perché magari ha bevuto un bicchiere di troppo, aveva paura di perdere la patente. Ma chi non salta un posto di blocco? Anch'io ho saltato un posto di blocco. Ecco, bene. Per sbaglio. Ero un ragazzino giovane e l'ho fatto. Bene, bene. Per colpa del calcolo aveva paura di perdere la patente e ho saltato un posto di blocco. Io sono per un attimo. Un attimo, un attimo. Sentiamo l'altro ragazzo. Adam, invece cosa pensi tu dopo che abbiamo visto queste immagini? Io penso che il ragazzo secondo me era sotto pressione e stava scappando proprio perché era inseguito avendo paura di non avere la patente e aveva paura magari che gli sequestavano il motore. Quindi, che ne so, se il carabiniere non avrebbe continuato l'inseguimento avrebbe preso un numero di targa. La sua, no? No, aspetta. Però se si fosse fermato, magari tutto questo succedeva. Quanto è durato l'inseguimento? 20 minuti, no? Se fosse stato un terrorista prendevi il numero di targa. È durato 20 minuti. Prendi il numero di targa del terrorista la prossima volta, dai. È durato tipo 20 minuti l'inseguimento. L'assassino prende il numero di targa. Il numero di targa, smettere di inseguire. Il ragazzo non è, non stava più sotto pressione. Se non si vede le luci blu dietro dopo non si sente. Si ferma, dopo si ferma, evita, va a casa. Si ferma, andava a casa. Certo. I terroristi vanno a casa quando... Aspetta, se il carabiniere prende il numero di targa e c'ha la targa, dopo risale a chi c'ha il motorino e dopo il giorno dopo... E se il motorino è rubato o no? Ma sarà scappato? Motorino, numero di targa. Il motorino magari potrebbe essere rubato. La prossima volta... Guarda, la prossima volta diremo ai carabinieri di chiedere permesso di chiedere i documenti. Il motorino non era rubato in questo caso, ma noi lo sappiamo a posteriori. Cosa ne poteva sapere il poliziotto quando ha fatto il posto di blocco a questi due ragazzi? Assolutamente nulla. Quindi se non ti fermi dai da pensare. Quindi ha fatto bene il poliziotto, assolutamente. Documenti a qualcuno di fermare qualcuno. Diciamo che bisogna che i carabinieri chiedano permesso la prossima volta? No, però penso che... Questo volete. Io penso che i ragazzi... Che chiedano permesso. Volete l'illegalità. In ansia. Voi difendete l'illegalità. Magari andava a 130, non so quanto andava. Magari questa stanza? Sentiamo... Magari pensava su famiglia, su cose. Ah, certo. Magari diceva sbagliato, magari non sapeva che fare. Allora, voglio ricordarvi che i carabinieri hanno il dovere, per chi non si ferma a un posto di blocco, di inseguirli finché non li raggiungono. Questo è un dovere che c'è scritto nel loro regolamento. Non possono fermarsi a metà inseguimento. Quando fanno un inseguimento, lo fanno perché non possono sapere perché quelli sono scappati. Quindi devono inseguirli fino al raggiungimento. E se si disperdono, come a volte alcuni inseguiti riescono a fare, quello è un altro discorso. Allora i carabinieri rimangono lì fermi perché gli sono scappati, come si dice. Se prendeva il numero di targa e non succedeva niente. Come? Se prendeva il numero di targa e si fermava la partita. Se non ci vogliamo proprio capire. Va bene. Galeaccio Migname. Galeaccio Migname. Galeaccio Migname. Questo è il video in questione. Cosa ne pensate? Ovviamente Belpietro molto molto su di giri, insomma, per queste dichiarazioni di questi due maranza, se così vogliamo chiamare, perché così sono alla fine. Io quello che voglio dire è che, insomma, dal video che non avete visto, ma che vi invito magari ad andare a rivedere, dell'inseguimento di Rami e Fares, che mi pare era il ragazzo che guidava, quello che si vede è solamente le mosse spericolate compiute da chi guidava la moto, ma non si vede alcun tamponamento. Perché quel pezzo non è stato preso a quanto pare? Non lo so. Non saprei. Dunque, dunque, fino ad ora, io mi sento di dare la colpa al 100% a chi guidava la moto. Però, non si sa, magari ulteriori sviluppi porteranno a una differente conclusione. Detto ciò, io vi saluto, ma prima di lasciarvi, io vi ricordo di iscrivervi al canale, a chiara la campellina, lasciare un bel mi piace e un commentino per farmi sapere cosa ne pensate. Inoltre, se volete supportare ulteriormente il canale, io vi ricordo che è possibile abbonarsi. Detto ciò, noi ci vediamo in un prossimo video. Alla prossima!